Siamo al circolo verico di Castellammare di Stabbia in compagnia del mister Guido Pagliuca ecco oggi stasera un riconoscimento, un ulteriore riconoscimento al lavoro suo, del suo staff e dei suoi ragazzi, lei rappresentante come diceva prima, però ecco è bello, ecco attestare di stima da parte della città di Castellammare, tutti vogliono tributare il vostro lavoro. Io ringrazio tutti, ringrazio Castellammare per tutto, ringrazio la nostra gente, la nostra Curva, Curva Sud e tutti quelli che sono vicini alla squadra, è un momento dove abbiamo dei punti importanti, una categoria importante perché 17 punti per noi sono veramente un buon bottino che dobbiamo difendere e dobbiamo cercare di migliorare partita dopo partita, siamo consapevoli di cosa affrontiamo e siamo anche consapevoli di quello che stiamo facendo, dispiace per la sconfitta di domenica perché fino al settantesimo, fino al rigore eravamo in partita contro una squadra importante, contro una squadra forte, noi abbiamo bisogno, noi come squadra perché la nostra squadra giovane, la nostra squadra ha necessità della gente di Castellammare che la sostenga e noi abbiamo il dovere di mettere il massimo dell'impegno, il massimo dell'attaccamento a questi colori e a questa maglia. Un anno e mezzo a Castellammare, lei ha avuto ovviamente dei riconoscimenti anche della sua cittadina di Cicina che poi è comunque vicino al mare, il mare, il legame con il mare anche il direttore Lovisa dice che quando scelgo i cacciatori devo anche vedere nella loro idea di vita dove piace vivere, lei piace Castellammare? Castellammare è splendida, splendida la costa, splendida la gente e splendido come mi fanno stare nel quotidiano, sia a me che alla mia famiglia, perché Niccolò è un trans, è adottivo, è un tifoso adottivo, mia moglie sta bene, stiamo bene, siamo consapevoli che dobbiamo arrivare a questo grande obiettivo, questo grande obiettivo che dobbiamo raggiungere a tutti i costi e vogliamo raggiungere a tutti i costi, siamo consapevoli delle difficoltà e siamo consapevoli che lo possiamo raggiungere anche all'ultimo minuto dell'ultima partita disponibile, ma per questo abbiamo bisogno del sostegno di tutti, senza il sostegno di tutti, senza l'incoraggiamento di tutti faremo più fatica. Nella storia della Juve Stabbia, lei è il secondo toscano, allenatore toscano che ha ottenuto una promozione importante, c'era Nazanino Tarantino che lo può testimonare con Piero Braga e ho chiesto anche ad altri che cosa lega la campagna alla Toscana, perché in tanti Spalletti a Napoli, adesso lei con la Juve Stabbia, Braga prima con la Juve Stabbia, qual è questo rapporto, perché c'è sintonia secondo lei? No, hai parlato di allenatori bravi per quanto riguarda Braga e per quanto riguarda Spalletti, io sono... L'augurio di migliorare, di essere più giovane e penso che tutti si siano trovati bene, ora noi lo scorso anno siamo partiti per salvarsi in modo chiaro, netto, abbiamo vinto un campionato in modo splendido, i soliti giocatori che l'anno scorso sono stati presi per fare un campionato di salvezza, stanno facendo la Serie B, quindi hanno 17 punti, stanno facendo qualcosa di eccezionale e questo noi lo dobbiamo valorizzare, lo dobbiamo valorizzare ma difendere, valorizzare e cercare di migliorare giorno dopo giorno, il nostro è un percorso, un percorso che ci deve portare al miglioramento di tutti quei 25-24 giocatori che abbiamo in Rosa che non hanno mai fatto la Serie B e quindi è doveroso migliorare ogni giorno, questo è il nostro impegno, l'impegno di uno staff eccezionale, di uno staff che lavora forte per la squadra. E il nostro auguro che diventi più importante di Braglia e di Spalletti, grazie mister. Grazie a voi. Grazie a voi.